Convocata l'audizione preliminare per l'inchiesta pubblica sull'ampliamento della discarica di Podere Rota. L'appuntamento è per il 25 febbraio alle 17 in aula virtuale con modalità a distanza mediante collegamento da remoto. È sicuramente un passaggio fondamentale, questo non solo per il comune di San Giovanni Valdarno, ma per l'intero Valdarno. Noi, come sindaci di questo territorio, ribadiamo la nostra contrarietà ferma a ogni prospettiva di ampliamento della discarica di Podere Rota. Per tutta una serie di motivazioni, non ultimo il fatto che da oltre 30 anni il Valdarno ha svolto una funzione importante nel sistema complessivo regionale della raccolta di rifiuti. Adesso è il momento che questo territorio possa autodeterminarsi e scegliere quello che potrà essere, dovrà essere il suo futuro. Che dovrà senz'altro essere un futuro di sostenibilità ambientale. Pertanto il passaggio dell'inchiesta pubblica sarà un momento importante perché tutta la cittadinanza sia coinvolta in prima persona in questo percorso. Come riportato nell'avviso pubblicato sul sito della Regione Toscana, saranno ammessi a partecipare all'audizione il proponente, gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, i soggetti competenti in materia ambientale, i soggetti che abbiano presentato osservazioni nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso. Inoltre è ammesso partecipare a chiunque ne faccia richiesta almeno 48 ore prima dell'audizione, dunque entro le 17 del 23 febbraio 2021.